Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Sono arrivato in questa stazione e ho una missione da fare, nel senso che ho parlato con questo signore qui, un po' ondulante la visuale, ma mi ha ricordato anche qui Star Citizen e diciamo che ho ricevuto un commento di un utente insomma che pubblica solitamente dicendomi ma esageri un po' dire che è meglio di Star Citizen perché non è niente di che. Onestamente mi ha ricordato Star Citizen e mi ha fatto meglio e lo ribadisco ancora una volta. Non vedo nessuno in piedi sui divani qua, ma io l'ho comprato è Star Citizen però. Allora, ci sarebbe da dire che perché quello che va detto va detto, le critiche vanno comunque fatte al gioco dove siamo crashati la volta scorsa a fine video, non mi caricava più il save, ho fatto una correzione. I file del gioco e poi è partito, è andato tutto bene. Si vede che non è di access, si vede che è sviluppato da una persona, mastiga. Ecco. Allora, questo tizio qui praticamente mi ha detto puoi andare a trovare un mio amico oppure mi paghi 6.000 per riparare il robot perché il robot era messo qua all'inizio su tutte le parti che mi hanno recuperato la volta scorsa lì sopra. Comunque, quello che facciamo adesso è un pochino più bello da vedere visto dalla terza persona. Tuttavia, vabbè, cerchiamo di giocarlo in prima. Devo seguire le indicazioni perché sembra anche molto più basso rispetto agli altri, quindi direi che mi tengo la terza persona. Allora, praticamente, io devo seguire le indicazioni per arrivare alla mia nave. Quello che dobbiamo fare ora, dato che mi hanno fatto usare il warp, più che il warp ho usato il portale per spostarmi di sistema solare. Quindi ora sono in un nuovo sistema. Elevator, spaceport, quindi sappiamo che dobbiamo andare di qua. Una delle differenze è che non c'è la scena animata dell'ascensore, ma ci si trova direttamente qua. Io non mi ricordo in che spaceport, in landing port, avevo parcheggiato la nave, quindi va bene. C'è anche una... ci sono dei computer appesi a parete che ci danno accesso alle taglie, quindi possiamo andare a fare anche i cacciatori di taglie. Comunque, andiamo a cercarci la nostra navetta adesso. Eccola qua, l'avevo parcheggiata qui. Ho dovuto chiedere proprio l'autorizzazione per salire, per atterrare qua. Ovviamente poi la nave mi è stata spostata meglio. Si parte, quindi take off R. Guardate che bella stazione. Landing, get retracted. Mi hanno dato loro, come succede anche in tutti gli altri giochi, Star Citizen, Elite Dangerous, X4, la piattaforma dove atterrare. Ed è importante sapere che bisogna atterrare lì. Ci sono altre navi. Allora, quello che mancherà è tutta l'interazione con l'altra gente. Se non quelli che vi danno missioni. Però, trovo confortante che questo gioco mi offre a mille altre cose da fare. E che è la creatura di uno sviluppatore singolo. Che non sta cacciando soldi. E qui esce la mia vena polemica. E quindi sono più incurato a giocare questo gioco che un altro, insomma. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a Corona Slab, a Converse Planet. Allora, Converse Planet, non so se sia in questo sistema. Dobbiamo vedere. Converse Planet, ok. Vi spiego. Se voi andate allo Stargate, allo Stargate poi voi premete il tasto M. Selezionate, adesso qua vedete che me lo fa scegliere. Selezionate uno di questi sistemi. Contattate lo Stargate. Lui vi dà l'autorizzazione ad entrare. E a quel punto vi spara in quel sistema. Sistema a cui cedete voi col tasto T. Ora dobbiamo andare a Converse Planet. Ok. Possiamo fare Inspec, così ce lo vediamo in anteprima. Carino, sembra un Earth-like. Con tutti i vari posti di interazione. Cioè, eccezionale. Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Allora, andiamo a Converse. Converse è qua. Lo selezioniamo con il tasto centrale del mouse. Andiamo in Calibration. E poi acceleriamo e rientriamo in salto. Diamo una piccola accelerata, poi fa tutto da solo. E ci porta lì. Ora dobbiamo andare al Coron Slab. Quindi dopo andremo a vedere dov'è sto Coron Slab. se abbiamo modo di vederlo sulla mappa. Voglio solo farvi vivere così, un'avventura easy easy. Carino perché si vede proprio che non ci sono caricamenti. E si va dire attivamente qua. Ok, questo è il pianeta. E per vedere il landing... Ok. Lock on col mouse. Sì, questo l'abbiamo già fatto. Dobbiamo trovare però dov'è questo posto. Quindi bisognerebbe puntare il pianeta. Non so come. Lo facciamo qui. Con bar. Facciamo e-inspect. E dobbiamo andare al... il lab. Vediamo un po' dov'è. Aspetta che io non lo vedo. Outpost, outpost, outpost. Aspetta che non c'è. Però ci dà le informazioni. Converse è un pianeta con 4.8 metri di gravità. L'ho messo in inglese. Ma vi dico la verità. Per quanti poi magari mi dicono è in inglese, è in inglese. Il gioco mi ha ripartito in inglese probabilmente perché l'avevo settato l'ultima volta. Ma onestamente non mi sono neanche accorto. Nel senso che non voglio fare... Però quando parlavano era un inglese molto semplice. Sono riuscito a capire tutto quello che mi diceva quello della missione. Quindi al momento me lo tengo così. Allora, io non so. Coron Slab at Cumber Planet. Coron Slab. Non so onestamente Xumbar. Ok, sono a Xumbar. Ma non so dov'è sto posto. Coron Slab. Mannaggia. Allora Xumbar. Ok. Quindi, torniamo lì di nuovo. Scusate. E facciamo l'inspect. Outpost, outpost, outpost. Sapete che non lo so dov'è. Non so. Adesso facciamo una prova. Vado a vedere se c'è qualche info qui. Allora, la nave abbiamo già visto eccezionale. Bisogna poi mettersi lì e cercare di capire. Dobbiamo un shotgun che abbiamo lootato. Rebuilding a friend. Ok. Allora. Per non si scopre pezzi di robot. Te li ho riassunto. Ok. Go to the Xumbar. Cumber Planet. Eh, ma non so dove sia onestamente. Track. Sembra tutto acquatico il pianeta, ma... Andiamo su quella cosa che sembra l'India. Il Coron Slab. Non ho idea di cosa sia, ma... Vabbè. Una volta scesi... Ah no, lì sotto c'è dell'altro. C'è della... Della Terra anche lì. Vediamo. Vediamo anche com'è fatto. Lì però c'è anche dell'altro. Anche lì. Continuiamo a scendere. E vediamo com'è l'entrata in atmosfera. Perché questo è un altro pianeta. Rispetto a quello dove siamo partiti. Ok. Inizio a cambiare. Posso dare... Con le frecce. Posso dargli più potenza ai motori. Ok. Diamo più potenza ai motori. E scendiamo. E vediamo quanto è realistico se succede come su Empirion dove... Se scendiamo sull'oceano c'è effettivamente l'oceano o meno. Ok. Ok. Siamo su pianeta. Piove. Piove. Ma non riesco più a controllare la nave. Perché? Ok. Ok. No. Era tutto caricamento. Ok. Siamo scesi ed è partita la missione. No. Io voglio vederlo dall'interno. Ok. Bellissimo. Dice che c'è qualcosa che non va. Ha detto. Poi c'è anche la direzione del... Del vento. Mamma mia. Ma è già scesa. È già diventata una cosa... Drammatica. Sta guarda. Allora. Go to the core on lab. Ma onestamente io non so dove sia. Non so nemmeno dove sono sceso. Se faccio M non si apre la mappa. Se si apre questa... Vediamo la mappa sempre del sistema. Ma non ho mappe interne. Mamma mia che brutto posto. Allora. Sta anche piovendo proprio di brutto brutto brutto. Allora. Ah. In order to see the landing point on a planet. First toggle warp drive to online with B. Lock on core on location. Ok. Quindi B. Ah. Ok. Chi arriva. Ah. Dovevamo fare la scansione. Core on. Ok. Quello là. 65 km. Sì. Probabilmente... Ma ci sta. Viene tutto orientato in base a dove dobbiamo andare. Cioè tutto comunque... Probabilmente non è in scala 1 a 1 il pianeta. Ma ci può stare. Questa è Coron. Coron location. Però dov'è Coron location? Perché lì c'è scritto Coron. Ok. Adesso... La seleziono. Ok. Posso contattarli? No. Però posso atterrare qua. N. Vediamo se possiamo... Andare giù. Sì. Posso atterrare dove voglio. Ok. Exit G. Vediamo se è respirabile l'aria. Sì. Perché vediamo in terza persona. Quindi... Con... Che non abbiamo il casco. Speriamo non ci siano agguati o cose varie. Guardate la nave che è stupenda. Ma anche la... La... Il... Tutto l'ambiente qui. Spettacolo. Adesso andiamo là. Guardiamo giù. Perché questo deve essere proprio un viaggio alla scoperta di questo titolo. Sì. Sono atterrato malissimo. Vediamo dove siamo arrivati. Noi siamo arrivati da lì. Sono stanchissimo. Che bello. Vabbè. Va bene. Andiamo e vediamo che cosa succede qui. Ci sono, mi pare, undici navi diverse in gioco. Undici tipi di navi diverse. E non credo ci siano le capital ship al momento. Quindi le abbiamo viste però. Qua è tutto deserto. Vediamo cosa c'è qua all'interno. Lo sapevo. Questo è... L'uomini di Curent. Sono sicuro che sono... Sono che tu sei... Sanno che tu sei qui. Non hai speranza con un equipaggiamento come il tuo. Hai bisogno di un equipaggiamento migliore. Io so dove i coron nascondono le loro cose. Lascia che te lo mostri. Cioè praticamente lui ci ha mandato qua. E hanno ammazzato tutto. Tutti. E ha detto guarda ho... So dove le tengono. Quindi... Ma diciamo è andato a morire qui. Tipo. Che equipaggiamento dobbiamo trovare qua? F2 Interact. Ok. Open con U. Ed equipaggia trascinando il nuovo equipaggiamento. L'intervento. Carragoship charter. La suite. Nuova. Alto livello. E poi... Devo prendere i rifle. Rail gun. E lo shotgun Wrong slot, vabbè Assolta, rifle Vediamo un po', danno 81 La pistola 17, 19 Uh, ma mi stanno attaccando Mi hanno fatto malissimo, non me ne sono manco accorto Questo è un cecchino Ok, uno è andato Ricarica Un po' confusionario Sto lutando, vedete adesso Posso lutare Vedete che posso prendere un Tried Goods Che sono oggetti Melted Metal Posso prendere tutto Ok, ce n'era qualcun altro qua Ho visto che è andato via, forse Però Non sono messo proprio bene No, beh, no, la vita è tornata da su Qua si scende verso le caverne Mamma mia ragazzi Ammappete Che roba Sì, poi Io ci passo sopra Ste cose che sparisce La cosa per farti scendere Non c'è l'animazione Meglio così E tante altre cose fatte bene Poi C'è sempre tempo di raggiungerle quelle Cioè, guardate sta caverna Cioè, siamo arrivati sotto Da là Mamma mia Potenzialmente Cioè, adesso avete ancora dubbi? Oh, cazzo Smed Mi dispiace che il tuo amico sia morto Morto come? Penso che sia stato assassinato Dannazione, lo sapevo Io avevo detto di non incasinarsi con il Curin Aspetta un secondo Se vedi qualche documento intorno Dovrebbe essere in una Box meccanica Non c'è niente qua intorno Non deve cadere nelle mani di Curin Fortunatamente hanno un tracking device Attaccato al documento Aspetta un secondo C'è tutto per farci sistemare il robot So di chiederti molto Ma il furto del documento Sta lasciando L'atmosfera Quindi seguili Non farli fuggire E così Abbiamo detto tutto Ragazzi Io credo A questo punto Di avervi creato Molto hype Perché abbiamo visto tanto Fuori sicuramente Ci sarà qualcun altro Ad attenderci Quindi io mi interrompo qui Lascio spazio al vostro hype Per vedere se il gioco Effettivamente Magari non vi aveva convinto La volta scorsa Insomma avete deciso di Arrivederlo O se l'avrete già seguito Datemi un'ulteriore parere Mi scuso in anticipo Per l'inizio Dove non ho capito esattamente Dove dovessi andare Ma sto apprendendo Anch'io le meccaniche Poi io sono stato In viaggio tra i giorni Quindi non ho più avuto modo Nemmeno di accendere il pc Fatemi sapere che cosa ne pensate E alla prossima Ciao ciao